Guadaghi Revisore nhéh Revisore Derby Revisore Segre the Bienvenido Allora, e vengo da Birmingham, Inghilterra. That's Birmingham, non Birmingham! Please ... Allora, a 16 anni sono andato via dall'Inghilterra con la chitarra e in Spagna, il primo paese era Spagna che sono andato e suonavo, cantavo per strada, ma lì ho capito quanto era importante comunicare perché non bastava cantare bene, suonare bene, tu dovevi relazionare con delle persone in modo che loro tornavano e così sopravvivevi. Allora, queste sono me quando cantavo. Ecco, non ho ancora capito bene cosa volevo comunicare qua, anzi togliamola va. Dopo Spagna ho messo su un gruppo rock e un giorno mi capita di venire in Italia e io mi ricordo che mi sono innamorato dell'Italia il primo giorno perché gli italiani sono i più grandi comunicatori del mondo. E la prima volta che noi inglesi vediamo gli italiani comunicare siamo ipnotizzati perché urlano e muovono le mani con gli occhi. E poi ho anche imparato che questa lingua dei gesti, che ogni gesto vuol dire qualcosa, cioè buono e questo qua, tutti, 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 significano. E' pericoloso poi quando non lo sai. Una volta uno mi taglia la strada e l'ho suonato, è arrivato questo simbolo nuovo dal finestrino. E io ho detto ma cosa vuole, cosa vuole? Le mie ragazze che non voleva problemi hanno detto ma si sta scusando, non ti preoccupare. Allora mi sono scusato anch'io con lui. Non worry, magari è colpa mia. Pericolosissimi non conoscerli. Però questo è il grande paradosso, no? Perché l'italiano è il più grande comunicatore del mondo, è vero. Tranne nell'aula di inglese. Arriviamo anche a questo. Ora, dopo girare tanto come cantante, è nata mia figlia, io volevo un lavoro normale, volevo essere sul C perché era sempre girare come cantante. Quindi comincio a insegnare inglese. E il primo giorno il capo mi ha detto una cosa che dice, lo dicono in tutte le scuole, ha detto non parlare mai italiano in aula. E io ho detto ma aspetta un attimo perché mi considero comunque una persona abbastanza logico, razionale. Ho detto ma questi ragazzi che vengono non sanno l'inglese? No. Infatti sto venendo qua per imparare l'inglese, sì. E io devo spiegare tutti i meccanismi della lingua inglese a loro in inglese, sì. Ma loro in inglese non lo sanno però. No. E io ho fatto una domanda, ho detto ma posso spiegarlo in italiano? Perché non posso spiegarlo in italiano? E lui mi ha detto le due parole più pericolose che esistono nella lingua italiana. Ed è questo. È così. È così. Pensa a quanti problemi ci sono in Italia per questa cosa. È così. Ora, quando si sente in inglese il termine thinking outside the box. Magari lo conoscete, no? Lo usano anche tanti nei talk di TED. Ora, è così is the box. E a volte va bene, ma a volte non va bene. E quelli che le mettono in discussione, questa è così, sono quelli che dicono no, no, ma questa box a me non funziona. Quindi io lo farò in modo mio. E fanno un nuovo modo. And that's thinking outside the box. Nel mio caso, I wasn't thinking outside the box. Ho distrutto the box. E ho fatto una nuova box, in mio caso. A volte c'è da buttare via proprio. E di ricominciare. And to create your own box. Io ho cominciato però a dire, vabbè, ci sarà una logica. Io comincio a insegnare inglese in inglese. E è successa una cosa incredibile. Nessun dei studenti mi interrompevano. Ma tu lo sai che se tu non interrompi l'inglese, lui pensa che tu stai capendo, no? Dico, ma mamma mia. E poi sempre più veloce, slang, accento di Birmingham. E loro sono lì. Poi ho visto i compiti, capito niente. Allora, vi faccio vedere un italiano che sta facendo finta di capire. Così. No, non si può. Allora, mia prima lezione è cominciato a creare questo metodo. Prima di tutto, usavo l'italiano. E uno mi chiede, cos'è get? Allora, get è il verbo, uno dei verbi più importanti che esistono nella lingua inglese. E viene dall'anglo-saxon. Ora, un italiano va in America, va a Londra, sente get, 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 get. Very, very simple. Ho detto, guarda, è un cambio di stato. Quando c'è un cambio di stato, get va sempre bene. Esempio, un italiano, mi alzo, funziona così. Un italiano con il suo cervello fa io, mi alzo e si alza. In inglese non è così. I get up, mi alzo e andare da giù a su. Ci sono milioni di esempi. Arrabbiarsi, è un cambiamento. Allora, I get angry, andare da sereno, arrabbiato. Arrabbiato, sposarsi, to get married, andare da felice a fregato. Che è sempre un cambio di stato. Ma vedi, la battuta alla fine, la battuta. L'italiano è bloccato, quindi c'è la battuta alla mano. E cosa succede? Il cervello stimolato apre come un fiore. E metti dentro quello che vuoi. Question. What is teaching? Cos'è insegnare? E' uno delle più importanti, se non il più importante, modo in communication. Ok? Ma leggere da un libro a una persona, that's not teaching. Non è insegnare questo. Davanti a una lavagna a scrivere, e loro copiano tutto quello che tu scrivi, that's not teaching. Se io ti comunico l'informazione e si appiccica, si inchioda al cervello, e tu dici anni dopo ti ricordi ancora, allora ti ho insegnato qualcosa. And you, e tu hai imparato. Voglio darvi un esempio. Sono cominciato a insegnare in un'azienda di assicurazione. Io vado lì e dovevo insegnare phrasal verbs. Per quelli che non lo sanno, phrasal verbs è un problema per gli italiani, perché prendi il verbo inglese, preposizione, e metti insieme, diventa una cosa nuova. Fall, cadere, out vuol dire fuori, le metti insieme, to fall out è non andare più d'accordo. Quindi, e non c'è in realtà una logica a tanti di questi phrasal verbs, però li devi ricordare, perché l'inglese l'usiamo tanto. Quindi, ho inventato questa storia. C'era, il capo si chiamava Davide, ed era una bestia enorme con la barba nera. E io ho detto ai studenti, allora, è una storiella dove ci sono dentro tutti i phrasal verbs importanti. To fit in, stare bene in compagnia, to let down, deludere, bla bla bla. Traduzione, dico non usarlo, lo devi usare. It's very important to translate. Ora, la storiella è la che Davide un giorno è arrivato in ufficio con la minigonna, il rossetto e tacchi alti. E lui ha detto, da ora e poi, voglio che mi chiamate Davina. Non voglio più nascondere la donna che è me. E chi mi chiama Davide? Licenziato. E io mi ricordo ancora che i studenti si guardavano come dire, è un pazzo, è un pazzo. Già facciamo fatica in inglese, ma questo è matto. Ma nella traduzione c'era, no, you let down your wife, hai deluso tua moglie, you can't fit in, in questa azienda, bla bla bla. 12 anni dopo, sono a stazioni centrali di Milano e questa signora, John, 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 Correa. E io vi dico la verità, non mi ricordavo di lei, però lei era in quell'aula, 12 anni prima, e si è riso, pensava che era un pazzo, la storia era seriale, era matto, ma si è ricordato tutto. Tutto. E ricordando tutto, ha anche ricordato tutti i phrasal verbs. That was the first thing I want to say. Poi ho capito il problema, dovevo trovare delle sisteme per inchiodare questa informazione, su tutto, a pronuncia. Un giorno una mamma col figlio, ah guarda che John, è inglese, parli inglese con lui, parli inglese con lui. Il suo bambino piccolo, italiano, mi ha detto una frase incredibile, di alto livello, sorriale quasi, con pronuncia perfetta, mi ha detto in inglese, uno che mastica l'albero. Wow, what a phrase, which in English is one, two, three. One, two, three. Ho detto qua, dobbiamo fare qualcosa. Tu sai che in Italia per dire arancione dicono orange, français. Orange, con lì, that's the correct pronunciation. Nobody pronounces like that. Dicono black, in Sudafrica dicono black. Tutto il resto del mondo inglese è black, con l'italiano. Ho detto devo fare qualcosa su pronuncia. Quindi ho guardato i simboli fonetici e non so come appiccicare il cervello perché non hanno una logica. Quindi ho cominciato con i miei simboli. Il primo era l'uomo morente. Perché l'uomo quando sta male in tutto il mondo fa questo. Che poi non è un morente, è un uomo, siamo patetici, 36 e mezzo di febbre, siamo già. Allora, fattelo. Allora, a me ti vedo. Alba di morti viventi. Questo è fondamentale per parole in inglese tipo bruciare. Burn. Il primo, first. Imparare. Learn. E i miei studenti, quando io scrivo learn, faccio L, uomo morente, N. Io, tra vent'anni, vedo i miei studenti, io metto questo e fanno A. Questo sulla destra, questo è l'ufficiale simbolo fonetico per uomo morente. Come faccio io appiccicati al cervello quella? Come faccio? Non c'è una logica. Quella. Vedi quello? Logico. Logico. Ora, questo è il dottore. Perché il dottore, quando ti guarda i tonsili, tu devi fare A, giusto? A. Fondamentali per parole tipo car, physical association. Far, lontano. Far, il bar. La mia macchina lontano dal bar. My car is far from the bar. I'll give you another example now. Io ho scritto una parola che gli italiani, anche in basso livello, si gasano. Sì, sì, questa lo so, questa lo so. A banana, in pronuncia italiano. Ah sì, io vado a Londra e mangio solo banane, perché quello mi ricordo. Eh, ma se tu vai a Londra e furti vendono e dice A banana, è bellissimo, no? È simpaticissimo. But it's not the right pronunciation, non frega niente se è scritto. Ora, il simbolo più, per il suono più diffuso in assoluto in inglese è schwa, si chiama schwa. Ma io lo chiamo il fioralino, perché quando lo fanno i bambini italiani, quando lo insegno, fanno tutto sempre la bocca del fioralino, fanno E. Sembra una stupidaggine. E. But it's really, really important. Tutti gli tre articoli inglesi, E. Allora, E, floor, E, chair, E, table. Non è A, è E. Questo è il simbolo del fioralino. This is the pronunciation, correct, the correct pronunciation for a banana. Yeah, it's this. It's a banana. That's the correct pronunciation. A banana. No, no. Conto fino a tre e lo fate insieme a me. One, two, three. Va, bravi. No, no, that was good. Speravo peggio, no? Mi diverti. So that was it. And this is, they remember that. It's easy for them to remember. Allora, io questo sistema è anche il contrario. Quando io ho un mio amico Matthew che sta imparando l'italiano, c'è una parola che è prezzemolo in italiano, ma delle intuizioni non riesce a impararla perché cambiate sempre il contesto. Quando lo usate, palle. E mio amico Matthew fa, ma cosa sono palle? Gli italiani sempre, palle, due palle, 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 palle. Ho detto Matthew. Okay, this is physical, right? Visual. Ho detto Matthew, don't worry. Io ho capito dopo qualche anno e tutto nelle preposizioni. Ora parole le facendo in inglese. I said, okay, when you stay on the balls, that person doesn't like you. When you stay in the middle of the balls, you're not welcome. Go away. Don't stay in the middle of the balls, not in Italy. And Italians, very polite Italians, molto edicato, say, excuse me, out of the balls, please. They will say, out of the balls. And you've got to go, because if you don't, the balls start to fill. Until they're big, cosi, and then they spin. Girano, girano le palle, and then they fall, and they smash, e hai rotto le palle, basta. E lui ha detto, vabbè, dai faccio spagnolo, che è meglio. Ora, per ricordare, per ricordare, questo non sono gli appunti di quelli che faccio, è un messaggio di mia ragazza che è qua, che ha detto, non alzare il braccio, si vede la pancia. Quindi lo sto vedendo ogni tanto, per non alzare il braccio. Per ricordare, io però non volevo dimenticare get, e non volevo dimenticare Davina, e non volevo dimenticare one, two, three, e neanche le palle. Quindi io, usando il mio stesso metodo, in testa, adesso ho questo videoclip. E qui in questo videoclip, per ricordare, io sono seduto, get vuol dire anche prendere, quando l'oggetto non c'è, quindi è un cambio di stato, da qua a lì prendi. Quindi sono io nel video che dice, get Davina, e Davina arriva e fa one, two, three, whoop, palle. E mi ricordo? Non è bellissimo, lo so, però mi ricordo, mi ricordo. This is it, I can remember that, because it has sense, it makes sense. Ora, adesso ho un'amica che sta facendo un corso di spagnolo, e mi ha chiesto a me, aiuto. E io ho detto, ok, fammi sentire i suoni che ci sono in spagnolo, che gli italiani non usano. E la prima cosa che mi ha detto era, chota, chota. Ho detto, così è, ok. Quando c'è questo suono, tu, perché quella è la mocca, sai quando è pronto il caffè? Ho detto, quando c'è questa ch, così, tu metti il becco della mocca, con il nuvoletto, e l'italiano saprà sempre, quelli che non sanno spagnolo, ah, lì c'è ch. Vi farò vedere poi il letto, lettera di ringraziamento, da suoi studenti, che stanno imparando spagnolo. It's logical, it's crazy, but it's useful, and you learn, ok? Learn. Funziona, it works, uomo morente. Ora, contamination. Il mio modo di insegnare è di non prendere per scontato che la scatola è così. Ha aiutato tantissimo. Io ho portato il palco dentro l'aula, vedevo che gli italiani erano molto bloccati, quindi mi sedevo con loro, parlavamo con i miei amici, e cercavo di sciogliere questo blocco. Quindi io sono stato contaminato in modo molto positivo di imparare a comunicare per la strada e legarsi umanamente con le persone con cui voglio comunicare. Ma c'è anche il positivo quando non sei contaminato. Perché se io forse ero un insegnante qualificato, perché non sono un insegnante qualificato, non ho fatto la scatola, non ho fatto nessuno di questi esami, ok? E meno male, perché se no andavo avanti con quella scatola che non funziona. Ora, this way to communicate è applicabile non soltanto alla lingua, ma a qualsiasi soggetto. Mathematics, philosophy, history, science, whatever. Se vuoi veramente insegnare, devi essere indimenticabile. Quello che comunichi deve essere indimenticabile. That's all I'm saying. Thank you very much. Grazie. Applausi. 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 Applausi.